Un panel Luigi che tu modererai, io inviterò adesso gli ospiti che parteciperanno a questo panel a partire dalla direttrice della Fondazione Palazzo Maffei, Casa Museo, Vanessa Carlon. Prego Vanessa. Il video sul palco, la direttrice globale Immagini e Comunicazione del pastificio Rana, Antonella Rana. Presidente di Feralpi Group, Giuseppe Pasini. Buongiorno Presidente. Chiedo anche di raggiungerci alla Presidente della Fondazione Marzotto, Veronica Marzotto. Bentrovata. La parola a te Luigi, benvenuta. Questo è il panel, nella mia percezione, non se ne abbiano gli altri, il più importante del festival, in cui veramente possiamo disegnare un futuro diverso. Come vedete, siamo qui in nome anche dell'interruzione della violenza alle donne e ci tengo che noi lo si sottolinei perché siamo in un momento particolare in cui l'Italia si sta, ahimè, distinguendo per qualche motivo che mi sfugge e che non conta, ma l'impegno di noi uomini deve mai cessare su questo tema. Allora, vi anticipo cosa voglio dimostrare, in modo che poi dopo noi svilupperemo, voi svilupperete la tematica, però la racconto ex ante. La relazione tra l'impresa e il territorio è una relazione non soltanto fertile per il numero di occupati che aumentano, ma c'è una relazione che va oltre, ed è una relazione culturale, è una relazione di sviluppo sociale, è una relazione di integrazione col sistema medico, ci sono imprenditori che se oggi doveste avere a che fare con l'Alzheimer, c'è soltanto il gruppo Manuli, con la fondazione Manuli che riesce a fornirvi ogni tipo di servizio, c'è la fondazione Zambon, c'è la fondazione Rovati, ognuno con un angolo. Secondo me è importante che noi ci si dica questo e che gli industriali in qualche modo raccontino, anche se esiste la letteratura condivisa per cui il bene si fa ma non si dice, oggi è arrivato il momento di dirlo per molti motivi. Primo perché le persone si rendano conto del ruolo dell'impresa e secondo perché gli industriali contaminino altri industriali con i vostri modelli. Questo è l'obiettivo della chiacchierata che faremo. E vorrei, scusatemi signore, cominciare con Giuseppe Pasini che a Brescia è in una industria particolarmente complessa da raccontare, nell'acciaio, e quindi chiedo a Giuseppe Pasini la relazione con il territorio e come si riesce a coniugare sia la sostenibilità, sia l'inclusività, sia i nostri temi sociali con una produzione così storicamente complessa come l'acciaio. Sì, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Ma diciamo, noi siamo nati nel 1968 a Lonato, Lonato del Garda, e siamo entrati in questa comunità che era una comunità fatta più di agricoltori, per cui l'industria siderurgica all'inizio è stata un pochettino difficile. Poi abbiamo cercato, così anche nei confronti della comunità, di appoggiare tante iniziative culturali, scolastiche. Noi ad esempio abbiamo un istituto tecnico lì, proprio lì vicino, per cui siamo praticamente un po' i percursori anche di tutti i laboratori, tutta una serie di cose. Stiamo facendo molto anche nello sport. Noi siamo cresciuti dal 1968 fino ad oggi all'interno di questa comunità. Siamo cresciuti molto bene, però abbiamo avuto anche la capacità e la visione di una parte della ricchezza dell'impresa, di darla anche alla comunità. Evidentemente questo ci arriva un po' anche dall'educazione dei nostri genitori, chiaramente, visto che noi abbiamo ereditato l'azienda, per cui. Che poi è un modello che noi abbiamo esportato anche a distanza da anni fuori. Trent'anni fa siamo andati nella ex-DDR, abbiamo costruito anche là un'azienda siderurgica, abbiamo più di 800 dipendenti. Quindi, evidentemente, lascio a voi un po' il pensare cosa voleva dire nel 1992 andare nell'est di DR dopo che il muro di Berlino era caduto nel 1989. Però anche là siamo riusciti a portare questa cultura. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che siamo noi imprenditori che dobbiamo farci interpreti di queste cose. E non è vero che tante volte le comunità non le accettano, perché siamo noi che determiniamo all'interno dei nostri territori anche la cultura del fare, del sapere e farsi anche conoscere, non avendo paura. Come ha detto lei, è vero, oggi la siderurgia sicuramente viene considerata un po' un'economia old. Però non è così, perché oggi chi sta in siderurgia, chi vive la siderurgia, è una siderurgia molto moderna e in modo particolare quella nazionale del tricolore, dove siamo la seconda siderurgia dopo la grande Germania e siamo quella più sostenibile di altre, perché recuperiamo un rottame e non partiamo, diciamo così, dal minerale. Per cui abbiamo cercato anche nei confronti della scuola, degli istituti tecnici, ma anche partendo anche da, di divulgare questa cultura del lavoro, del valore del lavoro, del valore anche di quello che stiamo facendo. E ripeto, per noi è una normalità questo, e delle volte mi fa specie che tanti imprenditori queste cose qua non le facciano, o comunque facciano un po' più fatica a farle, a farsi conoscere, perché secondo me questo è il modo anche di interpretare la nuova imprenditoria, cioè quella di aprirsi al mondo, di aprirsi alle comunità, ai cittadini, o no, di far capire cosa facciamo, perché come si diceva prima, non è tanto l'imprenditore che è al di fuori, che parte sempre da quello, ma è l'impresa. Cioè oggi se manca un po' di cultura di impresa all'interno di questo Paese, lo dobbiamo un pochettino anche, scusate, me ne faccio un po' anche mia colpa, cioè qualche colpa l'abbiamo anche noi. Ecco, per cui noi dobbiamo vincere anche queste resistenze. E diciamo che Feralpi da questo punto di vista credo che sia anche un po' un piccolo modello siderurgico, insomma, all'interno giustamente del nostro comparto. È importante però il racconto, come ha sottolineato lei. Quindi è bene che noi ci si racconti, siamo qui con un gruppo editoriale, il cui ruolo è proprio quello di far conoscere questo. Le chiedo ancora un mini ragionamento sul vostro obiettivo di portare le donne in fonderia, la quale sembrerebbe, come dice Antonella, uno simoro. Cioè come si fa a diventare inclusivi in fonderia, dove storicamente è un lavoro prima dell'inferno. Fatemi dire una battuta. Perché non è così. Perché nel frattempo, negli ultimi vent'anni, la siderurgia è cambiata molto. Noi siamo abituati a vedere la siderurgia di Taranto, ma la siderurgia, l'80% dei produttori d'acciaio, diciamo che sono quasi tutti racchiusi nel nord dell'Italia, è una produzione d'acciaio di circolarità. Cioè proprio siamo all'interno di questa circolarità. Ma guardi, un po' il discorso è questo. Facciamo fatica a trovare il personale. Io un giorno ho chiesto al mio direttore di risorse umane, ma scusa un attimo, ma perché non proviamo a vedere di fare qualcosa per portare in azienda anche delle donne, tecniche, fisico, perché ormai non si parla più solo di tecnici. All'interno dell'azienda va bene anche chi ha fatto, mi perdonate, ma anche chi ha fatto filosofia. Però all'interno dei reparti produttivi, per cui molto contatto con un ambiente molto maschile, dove ci sono delle turnazioni da seguire. E noi ci siamo dati come obiettivo di portare nei prossimi anni circa il 7-8% dei nostri dipendenti all'interno del gruppo femminile. Noi oggi contiamo circa 1.800 dipendenti, fate voi il conto. È uno sforzo che stiamo facendo. All'inizio, chiaramente, c'è stato chi questo all'interno lo ha accettato, c'è stato chi ha fatto qualche resistenza, ma ripeto, è la determinazione di chi sta sopra che deve determinare determinate cose. Questo è fondamentale nella gestione delle imprese. E poi pervenire, perché oggi all'interno di un'azienda come le nostre non servono tanto le braccia, ma servono le teste e i cervelli. E le teste e i cervelli le abbiamo noi quanto le hanno le donne. Assolutamente. Bene, complimenti. Lei, grazie, grazie. Lei ci sta raccontando cosa sta succedendo oggi. Ma vorrei venire a Veronica Marzotto, in cui l'attività di integrazione col territorio, la cui famiglia ha avuto un'attività di integrazione col territorio, che è iniziata nell'Ottocento, ma continua con i suoi figli. E quindi, benvenuta Veronica, e ti prego di raccontarci la storia della vostra solidarietà. Grazie, grazie Luigi. Possiamo avere le slide? Ecco, un'eredità. Allora, questa è una fotografia storica, è la fotografia degli stabilimenti di Valdagno. È la fotografia degli stabilimenti di Valdagno. Ho voluto aprire con questa fotografia, perché da lì veniamo. Però, da lì siamo partiti, ma era già un punto d'approdo. Questa è una foto dell'inizio del Novecento, degli anni venti-trenta. All'interno lì c'è un piccolo nucleo che è dato ancora dall'Ottocento. Il primo stabilimento è completato nel 1860. Lì si può far risalire anche l'inizio di questo impegno sociale della famiglia. Certo che è un impegno sociale che è legato all'intrapresa. Quindi ha la duplice dimensione dell'opportunità per l'impresa e dell'opportunità per il lavoratore. Io credo che sia un tema di relazione. L'imprenditore, allora come probabilmente anche oggi, è tale nella misura in cui riesce ad entrare veramente in relazione con il suo territorio, in ascolto dei bisogni e dove c'è reciprocità. Allora, noi abbiamo un'eredità. Eredità ha una radice che significa nella mano, è una radice indoeuropea. Un'eredità vuol dire avere in mano qualcosa con cui bisogna fare qualche cosa, ovviamente. L'eredità ti impegna. E questa frase, che è una frase di Gaetano Marzotto, che fa parte di un suo testamento spirituale degli anni Sessanta, scritto negli anni Sessanta, dice bene, come, mi dispiace io lì non riesco a leggere, dice bene, quale sia stata la sua scelta. E la sua scelta parte dal presupposto che lui non ha bisogno di più di quanto abbia. Allora, certo che si può dire cinicamente o meno, ma, insomma, certo che non aveva bisogno di più. Però non è detto che sia così. E nel momento in cui quello è l'assunto, lo sguardo sul mondo intorno cambia. E cambia nel senso che ci si rende conto che se per un verso c'è bisogno per l'impresa di una certa qualità di vita dei collaboratori è anche impossibile vivere bene quando la società intorno a te è in difficoltà o vive in difficoltà. Credo che oggi sia una sensibilità più sviluppata, ci viene anche suggerita un po' in modo più universale, forse era una cosa più di nicchia un tempo. E allora non è più carità questo, non è charity. E questo è davvero un condividere, un percorso di evoluzione di una società. E io credo che sia questa un po' la storia della mia famiglia, la storia della quale io sono modestissimo erede, ma che cerco comunque di proseguire, di portare avanti. Ci sono diverse possibilità. Puoi tenere la tua proprietà come in titolo in cassaforte, come dice Gaetano, oppure puoi correre i rischi. Corri i rischi, lo fai improprio, però il ritorno che ne viene è un ritorno che non è più per te, ma che davvero si allarga. È dunque una scelta necessaria ed è una scelta etica. Quando i due driver si incontrano, si ha quello che ha fatto Gaetano. Ha iniziato suo padre, suo nonno, la prima scuola materna, il primo asilo per l'infanzia, uno dei primi in Italia, data del 1866 ed è costruito da Gaetano il Vecchio per pochi bambini. Certo, era funzionale al fatto che le donne che venivano ai Telai avessero i figli vicini per poterli allattare, quindi c'era una funzionalità, però voleva dire anche garantire il cibo ai bambini, e voleva dire garantire igiene. La storia continua, continua con una grande varietà di servizi alla comunità locale e ha un suo momento di istituzionalizzazione quando Gaetano Marzotto, il Gaetano del Novecento, detto il giovane, struttura la fondazione Marzotto perché era necessario estrapolare le opere sociali dalle aziende, le aziende sarebbero andate in borsa, e nel tempo la fondazione Marzotto, di cui io ho l'onore e la fortuna di essere presidente, diventa autonoma. La fondazione Marzotto oggi, di Marzotto, porta solo il nome. Molti ricordi, molta gratitudine, ma solo il nome. Il fatto che ne sia presidente io è quasi casuale, nel senso che non siamo nominati, siamo eletti. La governance è scelta ed è eletta. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che c'è un momento in cui questo welfare viene consegnato al territorio, diventa parte integrante del territorio e diventa posseduto, passatimi in termine, dal territorio. E quindi non c'è più un donare o un donarsi, non c'è più un gesto dall'alto verso delle necessità, ma c'è proprio una relazione che si deve poter dispiegare nella reciprocità. Io credo che questo sia un segno molto importante e proprio un pochino una meta a cui guardare. Ti ringrazio di questo e vorrei sottolineare come qui non stiamo parlando di charity, qui stiamo parlando di interesse, nell'ambito di quello che si chiama ESG, dell'inclusività, come ha perfettamente sottolineato il dottor Pasini. C'è un interesse a far lavorare le donne, c'è un interesse affinché la collettività ti ritorni non solo gratitudine, ma formazione, salute, ma anche cultura, Vanessa. E veniamo ad un impegno particolare, diverso da questo, perché la famiglia di Vanessa ha investito tutto nell'arte e ha reso questo meraviglioso museo Palazzo Maffei un patrimonio cittadino a disposizione di tutti. Poi, per piacere, raccontarci proprio il motore di questa iniziativa. Grazie Luigi. Palazzo Maffei, casa museo, di cui chiedo per cortesia di trasmettere le immagini, così è più facile che le persone possano comprendere. È la realizzazione del desiderio di mio padre Luigi Carlonna, un imprenditore, che per quasi 60 anni ha collezionato arte, perché trova nell'arte un benessere, un rifugio, dopo le giornate dure di lavoro dell'imprenditore. E con la famiglia ha condiviso la passione per il bello, per l'arte, per il pensiero che scaturisce dalla fruizione delle opere d'arte. Pertanto, nel 2020, Palazzo Maffei, che abbiamo restaurato, è diventato, dopo un cantiere molto grande, ma molto veloce, è diventato la casa della nostra collezione. In questo momento, a tre anni dall'apertura di Palazzo Maffei, posso dire che siamo dieci donne nel team di gestione di Palazzo Maffei, collaboriamo con l'Università di Verona, l'Accademia di Belle Arti di Verona, e quindi nelle sale e nella vita quotidiana del museo sono presenti gli studenti e le studentesse di beni culturali che spiegano la storia della collezione, le opere d'arte ai visitatori e in un anno sono venuti quasi 63 mila visitatori con un'apertura su cinque giorni la settimana e grazie a una relazione che si è creata con il pastificio Rana di cui ringrazio Antonella che si è fatta portavoce e Gianluca che con grande sensibilità ha colto la nostra richiesta, in un anno e mezzo stanno entrando 12 mila studenti di ogni ordine e grado a Palazzo Maffei. Questo perché nel nostro progetto abbiamo messo al centro dell'inclusione del progetto i giovani. I giovani perché in questo momento riteniamo che siano le persone più in difficoltà a causa della situazione pensiamo e speriamo che questo sia il punto più basso di un momento storico e che coinvolgere i giovani sia nella partecipazione lavorativa del progetto ma anche farli uscire dalle loro classi staccarli dalla iperconnessione a cui sono soggetti fargli fare delle esperienze nel reale riteniamo insieme ai loro compagni insieme ai loro professori farli divertire gli studenti che fanno le visite guidate sono giovanissimi studenti e studentesse dell'università soprattutto donne perché chiaramente l'ambito è quello umanistico che hanno pensato dei percorsi che li coinvolgano che li rendano curatori di una mostra ideale che li facciano partecipare a una caccia al tesoro nel caso dei più piccoli che gli raccontino quanto sapere scientifico c'è dietro le opere d'arte create dagli artisti quindi la trasversalità delle discipline è un progetto che li cattura tantissimo e collaboriamo con tantissimi enti sul territorio e istituzioni per esempio a Fondazione Arena siamo onorati di questa collaborazione proprio ieri abbiamo annunciato otto appuntamenti di concerti la domenica mattina sempre pensando che le persone hanno l'esigenza di dedicarsi un momento di rallentare nel godimento dell'arte ti ringrazio molto è molto ispirazionale tutto questo apparentemente cambio argomento con Antonella Rana ma non è non cambio ci torniamo tra un minuto però ora vorrei capire in che maniera dentro Pastificio Rana il cui obiettivo strategico ti prego di ribadire come la crescita dell'azienda si è alimentata da questo ritorno culturale emozionale con i territori non solo con il territorio perché ricordiamo che il Pastificio è abbastanza ampio non è soltanto veronese ma con tutti i territori e quindi queste cose stanno tornando data l'alimentazione ti ho dato il là grazie Luigi ogni volta che si viene invitati ad un'occasione del genere credo ci sia per il relatore come un orizzonte incredibile che si apre perché per prepararsi all'incontro ci si fanno tantissime domande nel chiedersi cosa dire come dirlo quindi la gratitudine di essere qui è doppia per condividere delle esperienze che il Pastificio sta facendo ma anche come individuo come persona l'opportunità di riflettere una volta in più ad esempio sul saluto perché tutti noi siamo tentati all'inizio di un intervento di dire buongiorno e mentre ascoltavo ho pensato proprio questo che il giorno lo rendiamo buono scegliendo cosa pensare cosa fare addirittura ho riflettuto in questi minuti sul senso di dire il futuro è nelle nostre mani tu tragicamente hai detto che mi piacciono gli ossimori è vero perché oggi ti vorrei quasi proporre di chiamarlo il festival del presente perché il presente è nelle nostre mani e quel futuro è figlio di oggi di questa mattina di questo pomeriggio delle persone che magari sono collegate ci stanno ascoltando e nasce una scintilla oggi tante volte parlare di futuro può anche un po' annebbiarci perché pensiamo che il cambiamento sia domani invece il cambiamento può essere adesso con un nuovo respiro un nuovo pensiero allora in questa cornice cosa c'entrano 12.000 giovani che frequentano un museo straordinario non a caso si chiama casa perché ancora di più di un museo è un luogo che ti accoglie e ti nutre questo posto meraviglioso che invito tutti a frequentare a passarci tempo perché nutre ogni cosa una straordinaria direttrice per uno straordinario progetto questi 12.000 studenti invitati che hanno varcato la soglia grazie al pastificio di nuovo un ossimoro perché è un interesse disinteressato gli imprenditori hanno bisogno di interessi intellettualmente emotivamente perché gli imprenditori sono persone che amano fare agire portare in vita alla luce delle azioni ma quelle azioni necessitano di un cuore di una bussola l'interesse nel linguaggio di mio marito significa focus è un imprenditore che amo e stimo immensamente proprio perché la bussola che ha nelle mani è di questa natura allora io dico interesse disinteressato perché l'azienda ha un focus preciso nel condividere ciò che è buono ciò che è buono è in tavola è in frigo ciò che è buono va oltre e la ricetta passa attraverso l'arte attraverso la condivisione attraverso l'opportunità per un giovane di ispirarsi di andare oltre di sognare di immaginarsi artista di immaginarsi protagonista magari in un giorno in cui pensa di non valere nulla in un giorno in cui non vede il suo futuro varca le soglie di un museo il biglietto l'ha offerto un'azienda di tortellini perché voleva nutrire un pezzettino diverso non la pancia ma il suo animo la sua fantasia quindi questo interesse è disinteressato perché la sua ricaduta non è solo per il pastificio è per tutti e per le mamme per i papà per gli insegnanti per il sindaco per le città è un interesse disinteressato perché è di tutti e allora le cose che facciamo in pastificio sono agli occhi forse di chi ci osserva anche un po' sgangherate perché normalmente le fondazioni la nostra si chiama Famiglia Rana hanno un grande focus una grande missione mannaggia io sono la direttrice e posso dire che non sono riuscita a trovare una forma di attività che mi desse la soddisfazione totale e allora la nostra fondazione dice sì a tanti progetti grandi e piccoli faccio l'esempio di un altro progetto d'arte grande grande le 67 colonne guidato da un carissimo amico Sandro Veronesi e da mio marito cofondatori di una famiglia di 67 imprenditori che si uniscono chiedo scusa se guardo di qua lo reputo il padrone di casa e 67 imprenditori che formano una nuova famiglia rappresentano le colonne che abbracciavano l'arena e che sono crollate a causa di un terremoto tanti secoli fa questi imprenditori oggi riabbracciano l'arena diventano le nuove colonne che la sostengono hanno raccolto tutti insieme una forza economica impressionante di nuovo interesse disinteressato a favore della fondazione arena a favore degli ospiti degli artisti delle manovalanze più di mille persone impiegate fra sarte elettricisti costruttori più di 500 milioni di indotto diretto e indiretto per la provincia di Verona ma anche progetti piccolini ma altrettanto preziosi una pittrice Sofia Mussumano nata in Sud America nata sorda che fugge con la sua famiglia tre sorelle il papà e la mamma in Italia per trovare una nuova vita dove la sordità non sia uno stigma noi siamo fanatici della lingua dei segni non solo italiana fanatici dell'idea di includere tutti in una sovralingua e allora accompagniamo questa giovanissima bimba da 15 anni garantendole l'interpretariato in lingua dei segni in ogni ordine e grado della sua scolarità e oggi giovane donna pittrice organizziamo per lei ogni mostra in ogni dove affinché possa essere vista ma non solo con gli occhi vista da altri cuori perché questa giovane ragazza può ispirare tantissimi anche quelli che mannaggia si reputano normali ecco laddove un'abilità diversa illumina tutti gli altri quindi interesse disinteressato grazie tantissimo vorrei soltanto aggiungere che la fondazione Rena è uno dei pochi enti lirici forse l'unico in Italia e forse al mondo che è molto redditizio perché guadagna ora tutti gli altri enti lirici invece sono sovvenzionati dallo Stato invece questo guadagna grazie alle 67 colonne e ultimo dato ci sono 10 imprenditori in lista d'attesa aspettando che uno molli per entrare quindi questo da anche al diciamo Giuseppe Pasini è stato anche Presidente di Confindustria Brescia una bisogno io vorrei interpretare un bisogno di comunicare queste vostre questo vostro animo anche attraverso Confindustria ricordo per chi non non l'avesse presente che il gruppo Atesis è di proprietà di Confindustria Verona Confindustria Vicenza e oggi con la Gazzetta di Manto ha tirato dentro anche Confindustria Mantua quindi le Confindustria aspettiamo Brescia con ansia però diciamo che le Confindustria sono proprietarie di questi mezzi di comunicazione quindi è importante che noi si inizi a divulgare tutto questo Sì è molto importante io quando ho iniziato il mio percorso all'interno di Confindustria Brescia non avevamo rapporti noi con la cultura della città per cui iniziare un percorso che poi l'attuale presidente è andato avanti perché Brescia è città della cultura insieme a Bergamo quest'anno per cui abbiamo allargato un po' il nostro orizzonte anche per far sì che Confindustria parteciparsi ai vari diciamo proprio alla cultura aprirsi è chiaro Brescia da esterni io quando faccio arrabbiare il mio sindaco di Brescia dico sempre io se un giorno devo andare a vivere a qualche parte da pensionato vado a Verona perché io a me piace tantissimo e lui ci arrabbia perché dice no ma anche a Brescia dico sì ma Brescia oh no per cui però abbiamo cercato un pochettino di dargli anche un po' un po' più di di colore a questa città che è sempre stata considerata un po' una città più industriale che altro e devo dire che ci siamo anche riusciti Santa Giulia piuttosto che il museo ad esempio noi come azienda quest'anno lasceremo in dotazione alla città di Brescia una scultura di un artista molto importante che tra qualche giorno dovremo per cui non posso dire niente ma anche perché c'è stata un po' un'apertura da questo punto di vista per cui io ritengo questo molto importante e le confi e le confi industrie territoriali soprattutto devono lanciarle queste cose qui ecco e credo che adesso non so bene Verona ma credo che tante volte confi industria è sempre rimasta un pochettino in uno un po' vattata all'interno del proprio sistema ecco invece bisogna aprirsi anche a queste cose qui noi abbiamo fatto proprio due settimane fa l'assemblea di confindustria Bergamo e Brescia insieme appunto per celebrare la città della cultura tenete presente che Tavrescia e Bergamo non è che cioè a parte che sono i nostri cugini stretti cugini perché bene o male siamo molto molto anche le forme dialettali che abbiamo sono molto simili però c'è sempre stato un po' questa come si può dire questa barzelletta metropolitana che Tavrescia e Bergamo e lì io invece devo dire che come ex presidente di confindustria io mi sono un po' emozionato a vedere queste due confindustria eravamo 1500 imprenditori ce n'erano altri 1000 collegati vedere tutti questi imprenditori insieme questo cosa testimonia che oggi non si guarda più a una confindustria Brescia piuttosto che Bergamo o Verona ma si guarda al territorio cioè l'Europa non guarda tanto Brescia guarda un territorio perché noi facciamo parte di un territorio molto simile e secondo me è questo che dobbiamo cioè l'apertura che noi dobbiamo avere è questa la visione cioè oggi tante confindustria potrebbero mettere insieme perché condividono tante cose e da qui può nascere anche il discorso della cultura e di tante cose che si può fare anche all'interno diciamo così della collettività e della comunità perché ci ritornano anche in termini di valore persone più preparate per i lavori di cui parlavamo prima ma volevo adesso un istante con te Veronica cercare di approfondire l'altro lato della legacy cioè da dove arriviamo ma anche come andiamo avanti perché i tuoi figli se puoi raccontarci con i tuoi figli vi state impegnando altrettanto fortemente nella solidarietà sociale certo allora ti ringrazio Luigi io penso mi rifaccio a quello che dicevo prima e chiedo se è possibile avere di nuovo le slides perfetto grazie cosa dice questo ok allora questo fa ancora parte del testamento di Gaetano Marzotto e questa è una sua realizzazione prima parla di case minime e di salute dei suoi collaboratori questo è il villaggio Marzotto alle sue origini oggi affondato in una meravigliosa pinetta erano le colonie estive oggi vorrei fare quest'inciso anche perché credo che abbiamo il suo amministratore delegato di fondazione nel pubblico oggi questo è il primo villaggio paralimpico d'Italia quindi fondazione che non dipende dalla famiglia che ha una sua vita autonoma che è un ente assimilabile agli enti del terzo settore ha un suo percorso che continua però nello spirito comunque del welfare e del sociale tant'è che appunto un villaggio paralimpico non è esattamente un luogo turistico comune penso che si tratti sempre di scelta prima ho parlato di scelta l'imprenditore è qualcuno che sceglie lo ha detto anche prima lei Giuseppe quando scegli ovviamente ti metti in vista vorrei leggere questa frase di Gaetano che non ho riportato quando veniva rimproverato o accusato di paternalismo certo appunto ti sei messo in vista hai fatto un lavoro totalizzante hai distribuito salute cultura i premi marzotto la musica eccetera e lui risponde se l'aver provveduto a tutto questo in mancanza di iniziative da altre fonti viene qualificato paternalismo noi accettiamo la qualifica e dichiariamo di aver mirato all'elevazione sociale al miglioramento del tenore di vita e questo è un virgolettato e io aggiungo avendo scelto di dare alle persone della sua comunità quello che in verità e lo dice altrove lui riteneva spettasse per diritto alle persone quindi non riteneva di fare una beneficenza riteneva di dare alle persone quello che a loro aspettava per diritto in qualche modo si ricongiunge con quello che diceva Antonella prima e anche con quello che dicevi che dicevi tu questi ragazzi hanno diritto a guardare la vita in modo diverso hanno diritto ad avere degli strumenti che gli allarghino lo spirito e la mente allora questo naturalmente mio nonno era anche giustamente un po' polemico e quindi diceva tutto ciò io l'ho fatto in attesa che lo Stato faccia quello che gli spetta di dovere c'era il diritto del cittadino e il dovere dello Stato cosa fanno i miei figli e cosa facciamo noi i miei figli sono tutti figli molto adulti si capisce guardandomi sono partiti da questo principio del bisnonno e noi siamo soci in una società finanziaria e abbiamo scelto di riconvertire di riconvertire questa società all'investimento impact esclusivamente è un percorso ci stiamo arrivando siamo già a buon punto vuol dire cambiare completamente modo di pensare il denaro vuol dire accettare di lavorare con un capitale paziente vuol dire lavorare dentro delle realtà finanziarie con uno sguardo largamente sociale geografico politico ed è molto soddisfacente vi devo dire certo facciamo anche filantropia ma la facciamo rivolgendoci in particolare alle cause facciamo la filantropia che viene chiamata root causes ci capita di finanziare anche dei gruppi di attivisti vi devo dire oggi siamo in pieno nella crisi e climatica e ambientale ci sono dei gruppi che sono in grado di portare avanti non solo comunicazione ma anche lavoro su questi temi spesso manca il finanziamento i finanziamenti che possono venire dagli stati sono lenti quindi quando un gruppo di privati può farlo credo che anche questa sia una forma di oggi di welfare noi ci auguriamo in realtà che un giorno si possa fare filantropia forse solo in ambito culturale che la filantropia non sia più necessaria questo è un po' il nostro sogno bisogna avere una cometa a cui guardare e quindi questo comunque è quello che facciamo noi vuol dire anche però e questo forse è un tema un po' più spinoso rivolgersi alla tax justice Oxfam ha scritto quella lettera una delle tante al G20 era a disposizione di tutti i patrimoni del mondo ci sono solo tre firme italiane questo ci permette di pensare che c'è spazio per crescere per migliorare in questo senso e gli imprenditori italiani sono sempre stati secondo me per quello che io vedo attenti al loro territorio sempre e quindi si tratta di aprire lo sguardo ad un territorio più ampio gli imprenditori italiani sono sempre stati attenti al loro territorio non sempre lo Stato gli è stato a fianco in questa loro inclinazione e anche in questa loro azione ecco ti ringrazio molto per questa testimonianza però vorrei portare per la prima volta il mio pensiero politico io non credo che questo paese sia cresciuto o decresciuto grazie allo Stato penso che sia stato l'attività industriale e creativa a portarlo avanti e lo sostiene quindi personalmente ho smesso di aspettarmi qualcosa ma non in senso scettico noi siamo qua siamo qua nel 2023 con un livello di reddito disponibile molto alto a parlare di reinvestire di tirarci dietro le persone perché c'è un'industria che ha continuato a crescere dal dopoguerra ad oggi senza mai fermarsi mai guardare indietro ma sempre investendo dando lavoro e oggi dando anche di più posso dire in modo carino che siamo autosufficienti cioè oggi stiamo parlando di questo perché abbiamo nelle nostre corde dell'Italia fatemi dire che non è soltanto il nord d'Italia pieno di esempi di industriali da Ragusa a Corato a Napoli quindi non c'è una letteratura dobbiamo cominciare a raccontare l'Italia per quello che è e l'Italia per quello che fa per quello di cui non ha più bisogno e quindi siccome il vostro caso è un caso proprio di un imprenditore formidabile che ho avuto la fortuna di conoscere che ha deciso di dedicare tutta la sua fortuna al servizio della comunità perché gli piaceva perché si poteva permettere questo e quindi Vanessa ti chiedo di raccontarci anche tu come vedi il futuro della vostra fondazione sì al servizio e alla condivisione perché ritiene e lo credo assolutamente anch'io che l'arte vive attraverso gli occhi di chi la guarda perché dà un insegnamento diverso a ognuno di noi che si pone di fronte a un'opera che ascolta il linguaggio di un artista ed è per questo che stiamo dando voce nel teatrino di Palazzo Maffei agli incontri con gli artisti lunedì arriverà Gian Maria Tosatti che è stato protagonista unico del Padiglione Italia alla Biennale d'Arte del 2022 che è un filosofo le sue opere d'arte sono delle opere immersive in realtà dietro all'opera c'è un pensiero sull'esistenza sulla democrazia e c'è un sapere che parte dall'antica Grecia quindi guardare un'opera di Tosatti fa scaturire tantissime domande che inducono a un approfondimento culturale a un arricchimento personale straordinario e Tosatti apre e chiuderà Emilio Esgrò che ha appena fatto una mostra a Brescia ai musei di Santa Giulia tra l'altro devo dire che i musei di Brescia stanno lavorando molto molto bene sostenuti dagli imprenditori durante la ristrutturazione del palazzo che è un palazzo che apparteneva a una famiglia di banchieri mafei avevano una precedente palazzina dal Medioevo in Piazza dell'Erbe nel cuore della città si arricchirono a tal punto che riuscirono ad ottenere il permesso di avanzare il palazzo nella ricostruzione nel corso del Seicento sul Decumano Massimo siamo poi in un punto straordinario per l'Italia perché siamo nell'incrocio fra il Decumano e il Cardo nella città di Verona quando sappiamo che il Decumano collegava Aquileia Genova e abbiamo ritrovato nel corso del restauro di questo palazzo magnifico che i mafei volero far progettare a un architetto romano che si ispirò a un palazzo di Raffaello un epigrafe e leggendo l'epigrafe ho pensato che veramente è attuale e sembra scritta da un imprenditore la frase centrale dice imparino i figli imparino i nipoti a non disperdere le loro fortune ma investirle in ciò che rimane per sempre quindi il desiderio dell'imprenditore di lasciare un segno nel presente e per le generazioni successive un segno non solo concreto ma un insegnamento ma che bello questo sinceramente vale vale il viaggio come si dice nelle guide complimenti complimenti allora riprendiamo un istante un discorso con Antonella l'obiettivo della vostra famiglia e nello spazio delle famiglie delle nostre vite in qualche modo dare occupazione al maggior numero di persone possibile nel mondo e questo messaggio si trasferisce naturalmente qual è la materia prima principale persone persone di grande qualità che tutto questo che stiamo vedendo alimenta e che riviene anche al discorso di Pasini di prima di trovarle queste persone formarle formarle con una tale sensibilità che oggi quando giri negli stabilimenti Rana lo vedi negli occhi felici delle persone ti ho lato in là allora torno indietro di nuovo quando ero bambina e lo sono stata negli anni di grandi dibattiti su maschilismo e femminismo ho detto alla mia mamma mamma io non sono né femminista né maschilista io sono personista ora mi fa tenerezza pensare ad una bimba che è convinta di creare questo neologismo ma perché crede in qualcosa che è per sempre che è l'individuo la persona è ciò che ci unisce tutti in un posto che è oltre al posto dove lavori dove vivi quindi quando tu mi parli di famiglie di persone mi stai parlando del lievito per rimanere nel mondo delle ricette la persona è la parte viva dell'impresa la persona è il perno è il fine ultimo perché la sua realizzazione è il vero scopo dell'imprenditore dell'impresa quando qualche giornalista rivolge a mio marito la domanda dei numeri mio marito sconvolge sempre tutti perché tira fuori questo numero che all'inizio non è capito perché è quello della crescita dell'occupazione non è il profitto non è il margine questo numero è vivo gli altri numeri sono strumentali sono morti il numero delle persone con cui lavori per cui lavori perché l'imprenditore lavora per le persone quel numero lì è vivo e allora mi unisco a Vanessa exeggi monumentum o eretto un monumento l'imprenditore non eregge un monumento nell'opera materiale il suo monumento è un'azienda viva che cresce che dà opportunità di realizzazione noi siamo onorati nei nostri 61 anni di vita a pensare che siano stati con noi delle persone lavoratrici in linea che sono entrati con una scolarizzazione molto bassa hanno iniziato a lavorare a 14 15 anni bambini se pensiamo ai nostri figli e oggi i loro figli sono i nostri ingegneri sono i nostri direttori laureati masterizzati ma non perché questo titolo dia un valore in più alle persone attenzione ma perché quel lavoro quella sicurezza quell'impresa è stata il trampolino di realizzazione di famiglie ecco allora le fondazioni le imprese si relazionano come i polmoni dentro all'essere umano in un respiro solo svolgono compiti diversi ma sempre a favore delle persone io vorrei sottolineare che oggi le persone sono più di 4.000 del pacificio rana con una crescita diciamo del 20% all'anno vista per seguire la domanda di prodotti in tutto il mondo adesso vi faccio un'ultima domandina flash su come volete lasciare queste eredità e cosa pensate di fare nel futuro con riferimento a questi temi questi temi che sono dei temi interessati cioè un tema di sviluppo industriale non lo dobbiamo più chiamare charity non dobbiamo più chiamare soltanto solidarietà ma è qualcosa che poi se ci riusciamo ritorna nelle vostre aziende con una battuta flash ma guardi io magari non so se riuscirò a dare la risposta però mi è piaciuto molto l'intervento che ha fatto Martucci noi abbiamo avuto il covid la pandemia non so come sia stata vissuta a Verona vi dico solo che a Brescia come a Bergamo è stata una tragedia avevamo praticamente tutte le aziende ferme tutto quanto in quel momento lì quanti imprenditori per far fronte alle fermate produttive perché Brescia è stata ferma dalle 5 alle 7 settimane a livello produttivo quanti imprenditori alla fine dell'anno hanno di loro spontanea volontà senza nessun accordo sindacale dato alle famiglie chi 5 chi 1000 chi di più questa è la dimostrazione della solidarietà dell'imprenditore quando vuole bene o male come si può dire far vivere all'interno dell'impresa anche un rapporto con il dipendente e allora io dico solo questo quanti Olivetti abbiamo in Italia tanti imprenditori si rifanno a quel concetto Olivettiano come un pochettino dicevo prima ecco dobbiamo solo imparare un pochettino ad essere più bravi a raccontarlo questo ad raccontarlo perché io che bene o male di imprenditori in Italia ne ho conosco e ne ho conosciuti tanti ripeto quanti Olivetti oggi abbiamo in Italia piccoli medi e grandi a secondo e questo vuol dire che il tessuto del territorio è un tessuto solido perché quando tu esci da un'epidemia come il Covid se non hai un tessuto solido e fatto di valori importanti che è quelli della solidarietà e dall'aiuto evidentemente tu vinci tutte le crisi economiche quella è la cosa più forte e io questo me lo porto dentro perché all'epoca ero presidente di Confindustria e devo dire l'ho vissuta veramente nella maniera tragica quando abbiamo dovuto fermare l'azienda ma l'ho vissuta in maniera veramente molto anche a livello emozionale quando siamo ripartiti perché chi ha voluto ripartire non erano solo gli imprenditori ma erano anche i lavoratori questa dimostrazione che quando i valori sociali in ogni interno sono forti qualsiasi crisi economica tu riesci a battere questo è se posso un grande premio a questo panel perché noi stiamo veramente raccontando il futuro perché abbiamo bisogno anche di raccontarvi di raccontare la storia degli industriali non soltanto con le parole usuali per cui gli industriali vengono visti in un certo modo faccio la stessa domanda anche a te Veronica su come vedi questo futuro perché qui stiamo parlando proprio di un futuro che come dice Antonella è già partito quindi è un futuro presente allora per comunicare credo che Antonella sia un'ambasciatrice straordinaria questo mi sembra una cosa una prima cosa io credo noi guardiamo le culle vuote contiamo adesso mi rimetto nei miei panni di presidente di fondazione voi sapete noi eroghiamo servizi per i grandi anziani non autosufficienze eccetera sapete che non troviamo personale perché l'abbiamo detto in tutti i modi non troviamo personale non perché non si voglia fare questo lavoro perché non c'è perché non ci sono più le persone non c'è più gente giovane ce n'è sempre meno abbiamo visto sappiamo qual è il problema anagrafico dell'Italia io penso che il presente e quindi il futuro perché lo si costruisce adesso è nella forza che saremo capaci di dare alle donne che è forza economica prima di tutto riconoscimento del loro lavoro del loro ma riconoscimento economico oltre che riconoscimento così generico del valore mi dispiace perché mi rendo conto di avere sempre forse un tono lievemente polemico ma io credo che in Italia noi siamo ancora molto legati ed è molto bello ma non basta alla donna madre alla donna nonna alla donna e quindi ci sorprendiamo quando una donna ha una dimensione magari imprenditoriale e ce ne sono tante e ci dimentichiamo che la dimensione imprenditoriale della donna si svolge anche nella famiglia e deve potersi svolgere serenamente nella famiglia quindi io credo che il nostro futuro il nostro presente il nostro futuro stia prima di tutto lì dentro noi oggi portiamo un nastro rosso che si rivolge a qualche cosa di molto specifico e molto particolare ed estremo anche se diffuso e a proposito di comunicazione pensavo in questi giorni guardavo il ranking internazionale sembra un po' brutto dirlo non siamo per fortuna neanche nei primi dieci posti in Italia vale a dire che ci sono paesi dove la violenza sulle donne è molto più alta compresa la Germania che credo si trovi se ricordo bene al sesto posto o qualcosa di simile allora cosa voglio dire con questo voglio dire che chi chi più sa più deve questo ce l'hanno insegnato gli Olivetti Marzotto gli imprenditori Rana quelli che hanno cominciato chi più sa più deve e chi più deve deve mostrare la strada e mostrare la strada vuol dire avere lo sguardo che sa spazzare ampiamente sui bisogni e sulle necessità che oggi forse sono meno bisogni materiali quelli ai quali noi dobbiamo guardare certo ci sono gli imprenditori ma sono bisogni sociali se noi sapremo io penso dare alle donne e parlo di noi in Italia perché cominciamo da qui il dovuto riconoscimento per quello che loro sono e possono continuare a dare alla società forse rincominceranno a dare alla società anche quello di cui abbiamo bisogno forze fresche quindi penso che questo sia davvero un tema una bellissima quello sguardo lì vi propongo bellissimo come sguardo per il futuro mi sembra una sintesi magnifica Vanessa tu hai una rete ti anticipo già una rete di come posso chiamare di industriali filantropi dal Giappone a Milano a Bologna come attiviamo questo metabolismo per il futuro io penso che la sensibilità ci sia abbiamo sentito queste voci questa mattina la sensibilità c'è è presente e va sottolineata sempre non solo con l'esempio che sicuramente è il punto cardine ma anche nel sottolinearlo a quelle persone che non lo vogliono vedere perché purtroppo ce ne sono ancora quindi far presente quali sono gli esempi che devono essere visti che devono essere guardati con attenzione questo è molto importante la vitalità dei progetti è fondamentale l'inclusione del territorio prima di tutto e poi come ci ha lasciato un'opera che ci ha lasciato Maurizio Nannucci nella sala di ingresso quindi è un'opera che è sotto i miei occhi tutti i giorni bisogna avere nuove visioni tutti i giorni per andare verso altri orizzonti ma questo è proprio quello che fanno gli imprenditori tutti i giorni magnifico grazie Antonella il tuo auspicio per questo futuro che è presente è come dobbiamo metterci in gioco più di quello che stiamo facendo fino adesso quando ci si incontra ci si unisce con un obiettivo comune certi pensieri sono nell'aria tu hai appena detto la parola visione io da quando Luigi ha posto la domanda mi sono chiesta cosa che rende tale l'imprenditore la visione soprattutto all'inizio quando vede quello che non c'è perché fondamentalmente l'impresa prima di esistere è la visione di un singolo individuo che già intravede qualcosa che gli altri ancora non hanno realizzato qualcosa che temono allora il mio auspicio è che l'imprenditore l'impresa non smettano mai di tenere viva la visione di quello che ancora non c'è nel nostro caso la nostra visione è riferita alla tavola anni fa abbiamo fatto uno studio meraviglioso chiedendoci cosa succede intorno alla tavola e abbiamo scoperto che mangiare è l'ultima cosa intorno alla tavola si piange si fanno i compiti si fa la pace si progetta si sogna ci si mettono le mani nei capelli per le cose che non funzionano e ci si industria ricordiamoci di questa espressione che non va più di moda ma una volta industriarsi ed essere industrioso era un complimento straordinario questo linguaggio ha un po' ingrigito invece la parola dell'imprenditoria ora intorno a questa tavola l'imprenditore sogna il pastificio sogna che si possano sedere sempre più persone che questa tavola del sognare del fare del nutrire del progettare non abbia limiti di posti e sedie questo è il mio auspicio e il progetto per il quale desidero impegnarmi bellissimo grazie